Efficace l'intervento di consiglio. Ma colpisce! Attenzione, rete! Un tiro al volo che non lascia spazio al portiere. Mamma mia che gol, Beck! Ha cercato la soluzione calciando di prima intenzione con grande controllo. Un gol che merita di essere rivisto da un'altra angolazione. Un tiro al volo che non lascia spazio al portiere.